Non lo so, veramente, non lo so, e mi state chiedendo alla persona sbagliata, io ho fatto quello che è, quando c'è la votata, io ho votato. Sì, però c'è più preoccupazione all'interno della Lega per questo atteggiamento del Presidente? Chiudetta Salve? Chiudetta Salve? Chiudetta Salve? È facile però così. Certo che è facile, ma io non sono lì, non perfezionare. Ma mi interesserebbe capire se questa votazione mi stupisce, se vuoi, della Lega? Ma non mi stupisco più di niente, sono la terza legislatura, ho visto delle cose in questi dieci anni. Ma è qualcosa di niente o dare una giornata di centro-destra? Non è una bella figura, però no.